Quello che abbiamo appena sentito non è che abbiamo bisogno di immigrate, abbiamo bisogno di mettere in campo delle politiche perché la natalità ricresca nel nostro paese. Non è che noi non mettiamo dei soldi, dei fondi in quelle politiche e partiamo con una sostituzione di fatto del popolo, muoiono i nostri, non aiutiamo i giovani a mettere su famiglia perché penso che l'Italia sia uno degli stati dove la natalità, dove le donne partoriscono a età molto avanzate ma dettate questo da delle difficoltà economiche, io no, non ho figli. Ma non ho figli un po' perché anche la questione del lavoro, quando ho fatto dei lavori, lavori che comunque non erano protrati nel tempo, non avevano una sicurezza economica. Io ho fatto l'arredatore interno e prima ancora ho lavorato in dei bar, facevo la barista, lavoravo per cui in dei locali. E avrebbe potuto permettersi una famiglia, un figlio? No, non avrei potuto permettermelo, non avrei avuto poi la sicurezza di poter mantenere il suo stato di vita, di avere un lavoro anche dopo, questo lo vediamo, penso sia un problema di tutti i giovani.